Era la notte che segnava il passaggio dalla Domenica delle Palme al Lunedì Santo tra il 5 e il 6 aprile 2009. L'inizio della Settimana Santa era stato accompagnato da una serie di scosse di terremoto che preoccupavano tutti. Quella notte del 6 aprile alle 3.32 la scossa che ha cambiato la storia d'Abruzzo. 309 le vittime, 1600 i feriti, 80.000 gli sfollati, una città capoluogo di regione con i comuni circostanti distrutti e 10 miliardi di euro di danni. 5.9 la magnitudo locale ma al momento della scossa fu calcolata 6.3. Epicentro, Arroio, sede della Facoltà di Ingegneria dell'Università di L'Aquila, quasi una beffa del destino. Profondità 8.8 chilometri. Una faglia che ha attraversato il capoluogo tagliandolo praticamente in due all'altezza di via 20 Settembre. L'Abruzzo si risvegliò con la paura che può portare un evento simile. L'alba, che ha poi tinto il paesaggio, ha presentato agli occhi di chi c'era uno spettacolo spettrale. L'Aquila non c'era più. Macerie dappertutto, palazzi crollati, morti sotto le macerie e le sirene che rompevano un silenzio spettrale. La fila dei mezzi militari che abbiamo imparato a conoscere a Bergamo per il Covid un anno fa l'avevamo già vista all'Aquila. Erano i soccorritori che arrivavano da tutta Italia e che si trovavano di fronte una situazione alla quale in molti non erano preparati, non erano pronti. E poi la distruzione e la morte. La casa dello studente, ristrutturata due anni prima e piegata in due con le giovani vite di studenti, rimaste per sempre dentro quelle mura. Il palazzo di governo piegato su se stesso e le 40 vittime di Onna diventato il paese simbolo di questa tragedia. I giorni successivi sono stati quelli dove si pensava alla ricostruzione e alla conta dei danni. Appoggio Picenze dopo qualche giorno la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi e del Ministro dell'Istruzione di allora, Maria Stella Gelmini, che inaugurarono una scuola sotto una tenda. E poi il Papa Benedetto XVI, arrivato alla caserma della Guardia di Finanza di Coppito per portare la sua solidarietà. Il G8, con i grandi della terra, riunioni di consigli dei ministri che si tenevano all'Aquila e non a Palazzo Chigi. L'ex governatore Gianni Chiodi, che ha visto i suoi capelli tingersi di bianco e segnato dal dolore. Facile dire che da quel 6 aprile 2009 nulla è stato più come prima, come diremmo oggi, a partire da un anno fa. I ricordi sono sempre quelli, la ricerca di qualche vita che ormai non c'era più, l'affanno dei cani che annusavano sotto le macerie l'odore acre della polvere e della morte. E poi la terra, che tremava di continuo, lo sentivi sotto i piedi, che dovunque andavi sentivi che si muoveva con le scosse, meno intense, ma per questo non meno pericolose, che si susseguivano. 12 anni dopo il ricordo è sempre vivo. 12 anni dopo l'Aquila non è tornata ancora come era, ma questo non si sa se sarà mai possibile. 12 anni dopo ancora le 309 vittime sono sempre presenti, lì, ricordate a perpetua memoria di una tragedia che è stata la nostra tragedia.